Una scuola non mi par cosa viva se non a questo patto, che accanto all'insegnamento ci sia la parte educativa, una ginnastica intellettuale e morale che stimoli e mette in moto tutte le forze latenti dello spirito. Il meno che un giovane possa domandare alla scuola è lo scibile, anzi lo scibile è lui che deve trovarlo e conquistarlo, se vuole sia davvero una cosa sua. La scuola gli può dare solo gli ultimi risultati della scienza e se non fosse per questo in verità una scuola è di troppo, tanto vale pigliarli in un libro quei risultati. Ciò che un giovane deve domandare alla scuola è di essere messo in grado e la scienza la cerchi e la trovi lui. Perciò la scuola è un laboratorio dove tutti siano compagni nel lavoro, maestro e discepolo, e che il maestro non esponga solo e dimostri, ma cerchi e osservi insieme con loro sì che attori siano tutti e tutti siano come un solo essere organico, animato dallo stesso spirito. Una scuola così fatta non vale solo a educare l'intelligenza, ma a ciò che è più ti forma la volontà. Vi si apprende la serietà dello scopo, la tenacità dei mezzi, la risolutezza accompagnata con la disciplina e con la pazienza. Vi si apprende innanzitutto ad essere un uomo. Grazie a tutti.